Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come La bellissima Diana del Bufalo, attrice sempre più amata dal grande pubblico di ogni età, vera regina della fiction nostrana, ha di recente partecipato al matrimonio di una sua amica. Sapete come si è presentata? Abito da sogno, make-up leggerissimo e acconciatura easy. Ci ha raccontato con tanto di video e foto delle nozze, appena celebrate, di una persona a lei cara, l'ex star di Amici. Ancora single, si è presentata all'evento in compagnia di una sua cara amica. Ma ciò che ha suscitato l'ammirazione e l'attenzione dei suoi fan, sempre tanto numerosi, è il suo bel abito. E lei è deliziosa, Diana del Bufalo, amatissima dagli italiani. Diana del Bufalo è oggi una delle attrici più amate dagli italiani. Indubbiamente di strada ne ha fatta tanta da quando, poco più che una ragazzina, ha partecipato al padre di tutti i talent, ovvero amici di Maria De Filippi. Si era proposta come cantante ma poi ha capito ben presto che la sua strada fosse quella della recitazione e sebbene la musica, così come il canto, rimane il suo immenso amore. E a proposito di amore. Dopo la fine della sua storia con l'attore Paolo Ruffini ha avuto una storia con l'ex naufrago Edoardo Tavassi, fratello della bellissima Guendalina, con il quale oggi è ancora in buoni, per non dire ottimi, rapporti. L'ex naufrago, suo celebre ex, in molti si sono chiesti, visto che i due apparivano anche in pubblico, oltre che sui social, davvero molto affiatati, per quale motivo si siano lasciati. A quanto pare perché lei pensava ancora al suo ex, ergo non era forse davvero pronta a vivere pienamente la loro storia e a lasciarsi andare. Tra l'altro lei piaceva moltissimo alla mamma di Edo e i due hanno molti amici in comune che si sono detti rammaricati della fine della loro liaison. Oggi sono in ottimi rapporti e c'è chi spera in un loro ritorno di fiamma che oggi non c'è comunque ancora stato. E ora lei si è presentata a un matrimonio senza un accompagnatore. Ma sapete come si è vestita per le nozze di una sua amica? Ha abito splendido e lei, deliziosa. Vestito in stile capri e tacco 12, vestito con maniche a tre quarti che le sfiorano elegantemente i gomiti, lungo fin sotto le ginocchia, dalla fantasia e stile capri. Leggermente aperto sul decolleté, può contare su uno spacco sul davanti che riesce a mostrare un po' la sua coscia, tonica e slanciata. Sandali gioiello tacco 12, capelli raccolti in maniera semplice e raffinata, gioielli minimale e trucco leggerissimo. Un vero incanto, grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per aggiornare le ultime novità prima di tutti. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.